I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marsala hanno tratto in arresto un 27enne marsalese per i riati di violenza, minacce e resistenza pubblico ufficiale. I carabinieri impegnati in un servizio perlustrativo nel centro cittadino sono stati chiamati a intervenire presso l'abitazione dell'uomo che stava aggredendo i propri genitori. Giunti sul posto i militari sono stati a loro volta aggrediti dal 27enne che in evidente stato di alterazione psicofisica si sarebbe scagliato contro di loro impugnando una sedia in metallo e proferendo frasi ingiuriose e minacciose nei loro confronti. Nella circostanza l'uomo è stato prontamente tratto in arresto.